La Consob ha multato per 960.000 euro Banca Tercas, riconosciuta responsabile in solido di alcune violazioni commesse da suoi ex amministratori, sindaci e dipendenti, rilevate a seguito di una specifica ispezione. Come riporta Milano Finanza, gli uomini di Giuseppe Vegas, al termine dell'attività di controllo svolta sull'Istituto di Credito Terramano, avevano contestato da alcune persone coinvolte la violazione a vario titolo di tre distinti articoli del testo unico della Finanza. In particolare nei punti che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti. Erano comunque multe nell'area da tempo. La Consob, infatti, ha rilevato diverse irregolarità nella profilatura della clientela, commesse nell'ambito dell'operatività avente ad oggetto la negoziazione di azioni di proprie missioni e sostanziale carenze nel processo di mappatura del profilo di rischio delle emissioni subordinate della banca, di quei prodotti che hanno poi inficiato la valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte della clientela, oltre che la mancata adozione di misure ragionevole per identificare i conflitti di interesse ed evitare dunque che incidano in maniera negativa sugli interessi dei clienti. A vario titolo e per differenti importi sono stati dunque sanzionati, tra gli altri, l'ex presidente Lino Nisi, 60.000 euro, gli ex vicepresidenti Mauro Russo, 54.000, Claudio Di Gennaro, 48.000 euro, l'ex direttore generale Antonio Di Matteo, 180.000 euro, gli ex consiglieri Guglielmo Marconi, Luigi Marini, 60.000 euro ciascuno, Federica Morricone e Alfredo Rabbi, 48.000 euro ciascuno, oltre all'ex presidente del collegio dei sindaci Luigi Montironi, con 60.000 euro. Complessivamente, come detto, le sanzioni applicate ammontano a 960.000 euro, ammontare di cui è ingiunto il pagamento alla banca, che a sua volta avrà l'obbligo di regresso nei confronti degli autori di violazioni rilevate dall'autority.